Presidente, se mi consente di farle una domanda personale, e lo faccio non per mettere in difficoltà, ma perché l'ho letto anche nella presentazione ufficiale della sua biografia sul sito dell'Inail, so che lei ha subito un infortunio definito grave nella sua vita. Questo l'ha condizionato in qualche modo a vedere tutto il percorso che una persona affronta nel lavoro, nella famiglia, nella salute per risollevarsi e poi anche per cercare di tornare al lavoro e nella società. Certo, ovviamente parto da un presupposto, orgoglioso di essere dove sono oggi, presidente dell'istituto, perché io conosco da 45 anni, io mi sono fatto male a 15 anni sul lavoro e dalla mattina alla sera la mia vita e della mia famiglia, mia madre, mia sorella e poi il futuro anche della mia moglie, è cambiata, perché a 15 anni ho avuto un incidente che mi ha trasformato la vita. Ha trasformato da un punto di vista, parlando di come persona, io dalla mattina alla sera non ero più quello di prima, però poi sono riuscito a superare, ho superato l'aspetto medico, sanitario, il braccio è stato salvato, poi ho recuperato l'aspetto della testa, sono ritornato a scuola perché non volevo andare come voleva mia madre, ho dovuto andare a fare il manovale, poi nella fabbrica dove mi sono fatto male. Superato quello, l'aspetto psicologico grazie ai miei compagni di classe a scuola, più giovani di me che mi hanno detto che la mano non conta niente, contano le persone, da lì poi il reinserimento sociale e lavorativo. Mi sono diplomato, sono andato a scuola, mi sono iscritto, mi sono dedicato all'attività della disabilità, mi sono dedicato a ciò che in quel tempo purtroppo, ma lo dico oggi non è così, nessuno si è dedicato, nessuno mi ha dato un consiglio.